Si sono concluse ieri le indagini della polizia riguardo l'ultimo sbarco a Pozzallo. Lunedì sera sulle coste del comune Marinaro erano arrivati in 281. Stavano tentando la traversata in mare su piccole barche in legno con a bordo 25 migranti ciascuna. Un numero comunque troppo alto per le minute imbarcazioni. Diminuiscono i metri del natante, diminuiscono le persone, ma questo non cambia il risultato. Sono tutte cariche in modo inverosimile, mettendo in serio pericolo di vita tutti i passeggeri. A bordo erano quasi tutti i siriani e hanno pagato 5 volte quanto pagato dai centrafricani che hanno viaggiato in gommone. Il prezzo più alto però non è garanzia di maggiore sicurezza, come i libici fanno credere agli sventurati che decidono di intraprendere il viaggio. In questo caso uno dei motori dei due barchini si è anche guastato, quindi quello in funzione ha rimorchiato l'altro fino a quando non hanno visto arrivare una nave soccorritrice e sono stati tutti tratti in salvo. Sono quattro gli scafisti individuati grazie alla collaborazione dei testimoni. Dopo il senegalese di 24 anni, fermato ieri un 18enne del Gambio, un 22enne del Senegal e un tunisino di 31 anni. Al termine delle indagini, che sono più complesse quando i migranti arrivano in più imbarcazioni, gli scafisti sono stati condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. La Polizia di Stato ha già identificato e trasferito tutti i migranti dell'ultimo sbarco, ad eccezione dei minori non accompagnati per i quali le procedure sono più complesse. Grazie.